Questa seconda edizione esce dalla sua partenza che è avvenuta nel mercato ittico e va a scoprire in realtà tutto l'intero porto a 360 gradi. I protagonisti in realtà quest'anno sarà oltre al molo che ospita i bellissimi murales, sarà i pontili, i sette pontili che si trovano qui a Civitanova. Il porto a 360 gradi con tutte le sue tradizioni. È questo il zucco della seconda edizione di Gustaporto sabato primo e domenica 2 giugno a Civitanova Marche. Gustaporto dunque dopo l'edizione 0 del 2018 entra in profondità per una nuova idea di porto, l'amministrazione comunale insieme al flag Marche con l'obiettivo di accendere i riflettori sull'area portuale sia come approdo turistico sia per attività culturali e legate all'ambiente. Oltre alla spettacolarità dell'evento devo dire è stata un'occasione per costruire una bellissima tavola tecnica dove si sono seduti tutti i partecipanti e in maniera costruttiva hanno presentato le problematiche che vertono intorno al mare, intorno alla pesca e stanno lavorando sul fatto di trovare soluzioni. La due giorni Civitanovese è inserita nel Grand Tour delle Marche a firma, anci e tipicità. Io direi che è un vero e proprio festival perché il porto sarà gustato, come dice il nome, in tutte le sue sfaccettature a cinque sensi quindi si potrà assistere a spettacoli anche di musica, perfino di musica lirica ma anche di jazz sui moletti e ci saranno spazi per bambini, recitazioni ma soprattutto il gusto nel vero senso della parola quindi sarà possibile degustare i piatti tipici della tradizione marinara Civitanovese ad iniziare dal piatto eccellente per Antonomasia, tradizionale per Antonomasia, li furbi con l'abiti. Quindi tanti eventi che sabato e domenica animeranno la città riverasca compreso un talk show con un volto noto della tv. Sarà possibile anche andare in mare con delle mini crociere che raggiungeranno le vigne nel mare cioè gli allevamenti di cozze e sarà possibile degustare a bordo i piatti della tradizione marinara Civitanovese. Un ultimo appuntamento tra i tanti che si svolgono il primo e due giugno un talk show con Duilio Gianmaria, il popolare presentatore della trasmissione di Rai 1 Petrolio.